E ora con Lara Martino l'emozionante concerto di Noa al Teatro Trianon di Napoli. Con tutta la sua energia e le percussioni, ma soprattutto con la forza elegante della sua voce, Noa ha conquistato il pubblico del Trianon di Napoli in un concerto sold out pensato per la città che dà inizio al suo tour mondiale per i suoi 30 anni di carriera. Una dedica a Napoli e alla canzone napoletana nel teatro simbolo di questa tradizione, attraverso arrangiamenti originali ma sempre nel rispetto di un pezzo sacro della cultura partenopea che Noa ha già esplorato negli album Noapolis e Napoli Tel Aviv. In To Napoli With Love la cantante israeliana ha condiviso il palco con Gil Dor, da sempre suo chitarrista e direttore musicale, e il solo string quartet con cui collabora da anni. Il risultato è stato uno spettacolo in cui l'artista ha ribadito il suo amore per Napoli e ha lanciato anche un messaggio di pace alternando i brani in inglese del suo repertorio ai classici napoletani. Grazie a tutti.